Buongiorno a tutti e bentornati con Studio Legale Balestra. Oggi proseguiamo il nostro percorso di approfondimento in tema di Regolamento 679 2016, quindi del nuovo Regolamento Europeo Privacy, e lo facciamo andando a vedere cosa si intende per trattamento e cosa si intende per dati personali. Nelle precedenti puntate abbiamo visto quali sono per il regolamento. Da un lato i soggetti protetti, quindi gli interessati, e dall'altro i soggetti che devono adeguarsi. Oggi vediamo come queste due categorie si vengono a incontrare, quindi quando il regolamento effettivamente è applicabile. E di fatti, come abbiamo visto, i soggetti che devono adeguarsi lo devono fare laddove mettano in essere dei trattamenti di dati personali. Cosa si intende quindi con trattamento? L'articolo 4.2 del regolamento dà per la prima volta una definizione organica di trattamento. Ed è una definizione veramente molto ampia, perché va a comprendere fin dalla raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, la limitazione, la cancellazione del dato. Quindi sostanzialmente si dice che va dalla raccolta fino alla distruzione. E per la prima volta il regolamento dà anche una definizione di profilazione, quindi risolvendo una delle incertezze che si manifestavano con il precedente codice privacy, e lo fa definendo la profilazione come qualsiasi forma di trattamento che venga automatizzato per valutare determinati aspetti personali relativi sempre chiaramente a una persona fisica. Quindi possiamo pensare ad esempio alla situazione economica, alla salute, al comportamento, agli interessi di quella persona, fino ad arrivare addirittura all'ubicazione di quella persona e quali sono i suoi spostamenti abituati. Delineate quindi le definizioni di trattamento e di profilazione, vediamo invece cosa si intende per dato personale. Dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, quindi come abbiamo già visto gli interessati per il regolamento sono solo persone fisiche, che possa essere identificata o comunque potenzialmente identificabile, e quindi la categoria, come abbiamo detto, degli interessati. E si capisce quindi subito che la categoria dei dati personali è veramente molto ampia, perché può andare da semplice codice fiscale, il numero di una carta di credito, fino addirittura alla geometria del viso, le caratteristiche biometriche di una persona, alle sue opinioni, sia ovviamente politiche, eccetera, sia allo stato di salute, sia ai dati giudiziari, e addirittura può comprendere dei dati soggettivi, come ad esempio il grado di invalidità, oppure una valutazione di produttività che il datore di lavoro faccia sui propri dipendenti. Un'altra novità del regolamento è quella di dividere i dati non più con il vecchio schema di dati sensibili, dati comuni, ma si parla nel regolamento di dati a rischio elevato, quindi una categoria totalmente nuova. Queste sono tipologie di dati che presentano rischi per l'appunto elevati per la libertà e la dignità della persona, quindi parliamo ad esempio di profilazione definita come abbiamo visto prima, di sorveglianza, di trattamenti su larga scala, oppure di altre ipotesi che poi il garante potrà andare a definire nel corso del tempo. Alcuni esempi di dati a rischio elevato sono quei trattamenti che possono comportare ad esempio il furto di identità, oppure un pregiudizio alla reputazione di quella persona, oppure ancora la discriminazione di quella persona per motivi ad esempio di razza o di religione, oppure come abbiamo accennato prima la rivelazione di dati particolari come quelli biometrici, oppure la valutazione di aspetti personali e quindi di preferenze, spostamenti eccetera. Il trattamento di questo tipo di dati è tendenzialmente escluso secondo il regolamento, quindi ex articolo 35 del regolamento stesso, chi vuole effettuare il trattamento di questo tipo di dati è obbligato ad una valutazione di impatto preventiva, quindi il cosiddetto principio del prior checking, e quindi dovrà chiedere e ottenere l'autorizzazione appunto preventiva del garante prima di effettuare il trattamento del dato. Questa valutazione di impatto secondo uno degli altri principi cardine del regolamento che è l'accountability di cui già abbiamo accennato, dovrà consistere quindi in un documento formale il quale conterrà la descrizione del trattamento previsto, le finalità, la valutazione dei principi di necessità e proporzionalità, quindi anche un criterio di bilanciamento, la valutazione dei rischi, le misure adottate, quindi in sostanza tutte quelle attività che dimostrano come il titolare e l'organizzazione si sono resi compliant rispetto al regolamento stesso. Quindi se volessimo in qualche modo rifarci alle categorie precedenti che erano in vigore con il codice della privacy potremmo sostenere che la categoria dei dati a rischio elevato ricomprende quella dei famosi dati sensibili, oltre ovviamente quindi ai dati sanitari, genetici e giudiziari come li abbiamo descritti prima. La categoria dei dati comuni invece è desumibile per differenze, quindi tutti quei dati che non sono ricompresi nelle altre categorie, sempre chiaramente riferibili a persone fisiche come abbiamo già detto e possono ad esempio consistere quindi in dati anagrafici, indirizzi non solo postali ma anche elettronici, tutti i codici identificativi, ad esempio numero di carta di credito piuttosto che il numero di un documento di identità. L'ultima categoria è quella dei dati anonimi. Per dati anonimi si intende che non sono riferibili né a una persona fisica identificata né potenzialmente identificabile in futuro e quindi in questo caso il regolamento evidentemente non sarà applicabile perché non ci può essere diciamo raccordo tra quel dato e quello di una persona fisica esistente. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito ad iscrivervi al canale, vi invito a visitare il nostro sito internet, a lasciare un like e un commento su questo video se vi è piaciuto e come sempre arrivederci alla prossima.